Vivere in una società patinata in cui la semplicità e più ancora la genuinità stentano a farsi spazio sul palcoscenico dell'apparenza, fondamentale accendere i riflettori nel dietro le quinte, in quella comfort zone in cui preferiscono rifugiarsi gli amanti della riservatezza, lontani dalle luci della ribalta, per scelta o per selezione naturale di una comunità che viaggia in massa seguendo le influencer di turno e le mode del momento. Dedicare a loro del tempo e dello spazio evitando che il sentirsi diversi incida sulla propria sicurezza e sullo stato di benessere interiore diventa oggi più che mai fondamentale ed è per questo che il Rotaract di Barletta, presidente Tommaso Capasso, ha inteso organizzare dei laboratori esperienziali dal titolo Dialoghi sull'autostima assieme alla LILTA, Associazione Provinciale Barletta Andertrani e la Scuola della Felicità allo scopo di favorire la promozione del benessere psichico delle persone. Abbiamo voluto trattare la tematica della psicologia soprattutto rivolgendoci a tutti coloro i quali stanno affrontando un momento di difficoltà. Un messaggio che vogliamo lanciare, cercate di chiedere aiuto a queste figure professionali perché chiedere aiuto non è un atto di debolezza ma una forma di coraggio. Nell'auditorium Sant'Antonio Barletta la dottoresse Eliana D'Abbico, formatrice, life coach, presidentessa della Scuola della Felicità di Bari, protagonista di due incontri. Il primo rivolto al tema dell'autostima, il secondo che si svolgerà il prossimo 17 novembre sulla dipendenza affettiva, sul narcisismo e sui blocchi emotivi. La società nella misura in cui è una società che ci porta ad essere costantemente competitivi, costantemente, come posso dire, usando lo slang giovanile sul pezzo, essere costantemente performanti, poiché questa è una cosa che è lontana dal reale perché tutti noi abbiamo momenti di calo, abbiamo le nostre vulnerabilità, abbiamo momenti in cui non riusciamo a dare il meglio ma ci sta. Questo ci porta ad amplificare le nostre insicurezze. Di conseguenza, esattamente come un cane che si morde la coda, più siamo insicuri, più è più facile che si crei, appunto, come dicevo prima, il terreno fertile per delle dipendenze, per dei comportamenti disfunzionali e tutto ciò che ne consegue. Vi invitiamo anche al secondo appuntamento che ci sarà venerdì prossimo, venerdì 17. Parleremo, appunto, di quello che è le dipendenze affettive perché purtroppo sempre molti ragazzi sono invischiati in rapporti dannosi e magari non riescono più ad uscirsene.